C'è una modifica negli ultimi anni, generalmente il mercatino qualche anno fa era visto più come aspetto ludico, ricreativo, andare a trovare, che ne so, il vecchio fonografo, la radio a valvole, che adesso tutti transistor, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi c'era, a Roma si dice, smucinare, dico bene, smucinare, perché ci si divertiva a trovare appunto magari una giacca, un, diciamolo subito, le scarpe no, generalmente, le scarpe no, c'è una motivazione, le scarpe usate, sto parlando delle usate, naturalmente, le scarpe no, mentre c'è la giacca, la camicia, il pantalone, sì, e c'era il divertimento. Adesso invece si è trasformata questa cosa, adesso c'è solo il bisogno che spinge moltissimo verso il mercatino, proprio per risparmiare, cioè la visione ricreativa, ludica del mercatino si è modificata molto per via del potere d'acquisto delle famiglie.